Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze ci sono code tra Sesto e Beritola e code a tratti tra Pistoia e il Vivio Perla 1. Sulla Fibili rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze rallentamenti in entrambe le direzioni per lavori tra impronita grave inchianti e l'allacciamento Perla 1. Sulla tangenziale Ovest di Siena rallentamenti in entrambe le direzioni per lavori tra Siena Nord e Siena Acqua Calda. Sulla A12 per lavori chiuso lo svincolo di Colle Salvetti in direzione Genova e quello di Pisa Nord in direzione Livorno. La viabilità cittadina a Firenze in via del Melarancio per scavo urgente blocco temporaneo della circolazione. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!